Sai che facendo trading qualcuno sfilerà dalle tue tasche oltre il 50% del tuo capitale e dei tuoi guadagni senza che tu te ne accorga minimamente? No, non sto parlando di abili ladri, sto parlando delle commissioni, dei costi per ogni acquisto o vendita di titoli che a lungo termine ci costano un capitale enorme. In realtà è proprio questo lo scopo del nostro investimento, a lungo termine guadagnare interesse composto. Ma costi, commissioni e tasse ci fanno perdere il 60-70% dei profitti a lungo termine. In questo video voglio mostrarvi alcuni tipi di investimento per renderci conto di quanto influenzano le commissioni il risultato finale. In questo video considererò tre esempi di investimento. Il primo riguarda un investimento in money farm, completamente passivo. Il secondo riguarda un investimento in un indice, in un ETF che segue un indice globale azionario. Il terzo è un investimento in un fondo comune di investimento a gestione attiva che mira a battere il mercato. Quali sono i costi di questi tre tipi di investimento? Nel caso di money farm la commissione è pari all'1% del capitale investito, senza IVA, sarebbe l'1,22%. A questi dobbiamo applicare il costo base degli ETF scambiati, pari allo 0,2% e lo spread o le commissioni dei broker pari allo 0,1%. È un'approssimazione che deriva dalla mia esperienza con il broker de giro. Infine il fondo comune di investimento richiede un 3% annuo di commissioni, sommando tutti i tipi di commissioni presenti in questi fondi. Tendenzialmente già a occhio si capisce quale metodo di investimento comporterà dei costi minori, ma voglio fare capire con dei numeri reali, con la logica, con la matematica, quant'è l'effetto di questa piccola, quantomeno piccola differenza tra commissioni all'1%, allo 0,2% e al 3%. Prima di continuare però voglio dirvi che quello che sto dicendo non l'ho inventato io, ma è scritto qui in questo libro che voi vedete tutto nero, ma in realtà è il piccolo libro dell'investimento con buon senso. Farò molto presto una recensione di questo libro e spero veramente che tutti un giorno possano leggere questo libro, per rendersi conto veramente di ciò che conviene fare nel mercato azionario. Nel mio esempio supporrò sempre di investire 10.000€, la stessa cifra, a un rendimento dell'8%, lordo annuo. Questo è il rendimento che storicamente è stato ottenuto nel mercato azionario, perciò non è una follia, è un rendimento ottenibile. A questo poi applichiamo le commissioni e infine le tasse e vediamo qual è il risultato fra 50 anni. Numericamente la formula dell'interesse composto per un investimento che dura 50 anni con un rendimento annuale dell'8% per una cifra pari a 10.000€ di capitale inizialmente investito, ci fornisce un valore totale di 469.016€. Questo numero è enorme, ma non è la realtà. Nella gestione degli ETF di tipo world globalizzati nel mercato azionario ci sono dei costi, tendenzialmente sono attorno allo 0,2% annuo. Questo significa che l'8% di rendimento lordo diventa il 7,8% di rendimento e applicando ancora una volta la formula dell'interesse composto otteniamo 427.501€. Abbiamo perso 41.500€ per quello 0,2% annuo. I costi sono minimizzati, quasi zero, ma hanno comunque un effetto enorme sul nostro profitto. Infatti abbiamo perso il 9% del capitale che avremmo ottenuto senza aver sostenuto quei 0,2% di costi annuali. Allo stato attuale delle offerte di mercato possiamo sfruttare la promozione di de giro che ci permette di acquistare degli ETF a costo zero, commissione zero. Sta di fatto che dopo la nostra commissione di acquisto iniziale non dobbiamo più sostenere costi per mantenere questi 10.000€ per 50 anni e possiamo fare crescere il valore di questi ETF nel lungo termine. Questo per dire che il numero che abbiamo calcolato dopo aver scontato dal rendimento lordo il costo annuale per l'ETF è abbastanza verosimile. Il secondo investimento riguarda Moneyfarm che investe in ETF e ribilancia di tanto in tanto il nostro portafoglio. Le commissioni, i costi totali di questo investimento sono pari all'1,3% anno. L'1% applicato da Moneyfarm, lo 0,2% applicato come costo intrinseco dell'ETF e lo 0,1% di bid ask spread. L'8% diventa il 6,7% anno e perciò otteniamo un capitale totale dopo 50 anni pari a 255.990€. Abbiamo perso oltre il 40%, oltre 171.000€ pagando l'1% di commissione annuale a Moneyfarm. A lungo termine per ottimizzare la nostra strategia quello che dobbiamo fare assolutamente è minimizzare i costi. Ancora peggio nel caso di un fondo di investimento che ci chiede il 3% anno. L'investimento ha un rendimento quindi netto del 5% e noi otterremo un capitale pari a 114.670€. abbiamo perso oltre il 75% in costi rispetto a quello che avremmo potuto ottenere senza sostenere questi costi. A me personalmente spaventano tantissimo questi numeri e spaventa sapere che ci sono veramente tante persone che investono o in fondi di gestione attiva oppure cercano di acquistare di tanto in tanto azioni per provare a battere il mercato. Non siamo tutti Warren Buffett e nella media degli investitori per ogni azione che acquistiamo c'è qualche investitore che ha venduto quelle azioni e alla fine noi abbiamo lo stesso capitale di partenza meno le commissioni che abbiamo pagato ai broker. Parlerò di questo concetto magari in un prossimo video più dettagliatamente per far capire chiaramente cosa sto intendendo con questo fatto. C'è un altro costo che però non ho considerato e che considero adesso. Sto parlando delle tasse che inevitabilmente dobbiamo pagare sui profitti dei nostri investimenti. Si spera profitti. Quindi dal nostro investimento in ETF abbiamo ottenuto 427.501 euro. A questi però quando andremo a vendere l'ETF solamente alla fine dei 50 anni dovremo applicare l'aliquota di imposta. Pare in questo momento al 26% ma probabilmente fra 50 anni sarà diversa. Il 26% quindi viene applicato alla fine del nostro investimento non di anno in anno. In più c'è anche l'imposta di bollo sul nostro investimento. Pare lo 0,2% da applicare anno dopo anno. Quindi alla formula andremo a applicare lo 0,2% anno per anno quindi si sottrarrà il rendimento lordo e andremo a applicare il 26% sul valore finale di tasse. Quindi il rendimento lordo dell'8% diventa 7,6%. Perciò 389.595 euro. A questi dobbiamo applicare il 26% di tasse e rimarremo con 288.300 euro. Abbiamo perso oltre il 33% dal 7,8% netto senza applicare le tasse. L'interesse composto anno alla fine risulta del 6,95% e a questi non abbiamo applicato ancora l'inflazione di cui non parlo in questo video. Consideriamo adesso il caso di Moneyfarm che oltre alle commissioni da pagare a Moneyfarm applica un ribilanciamento periodico degli ETF del nostro portafoglio. Questo ribilanciamento è veramente inefficiente dal punto di vista delle tasse perché noi non applichiamo la plusvalenza alla fine dell'investimento, ma lo applichiamo di anno in anno. Questo comporta una differenza fondamentale. Nel caso precedente, quando vendiamo l'ETF alla fine del periodo, beh, applicheremo il 26% a quella quantità. Nel caso di Moneyfarm applichiamo il 26% al rendimento lordo, al rendimento che otteniamo dal nostro investimento anno dopo anno. Questo significa includendo anche l'imposta di bollo 8% meno 1,3% i costi di Moneyfarm, meno 0,2% meno il 26% dell'8%, un rendimento netto del 4,42%. Otteniamo quindi 86.932€. Non si arriva neanche a 100.000€. È stato tagliato completamente il rendimento. Ovviamente non siamo obbligati a ribilanciare il nostro portafoglio in Moneyfarm, ma se non ribilanciamo il portafoglio, perché sfruttiamo il servizio di Moneyfarm? A cosa ci serve? Tanto vale investire in quell'ETF di tasca nostra. Sia chiaro che non me la sto prendendo con Moneyfarm. È solamente un esempio che viene comodo per far capire l'influenza dei costi sul nostro investimento nel lungo termine. Terzo caso, gestione attiva. Investiamo in un fondo di investimento e manteniamo le quote di quel fondo di investimento. Perciò il 26% viene applicato a fine dell'investimento, quando vendiamo quelle quote. Riducendo il rendimento al 4,8%, includendo anche l'imposta di bollo, otteniamo un capitale pari a 104.247€ e a questo applicheremo il 26% di imposta sulla plusvalenza e otteniamo quindi 77.142€, cioè un rendimento netto del 4,17%. Al posto di 288.000€ otteniamo 74.000€, un quarto. Quello che voglio dire con questo video, il messaggio che voglio che assolutamente tutti capiscano e comprendano al 100% è che nel lungo termine l'influenza più grande sul nostro investimento è data dal rendimento, ma è data soprattutto dai costi che dobbiamo minimizzare. Facciamo attenzione e ancora una volta ringrazio tantissimo questo libro che mi ha aiutato tanto a capire questo concetto. Applicando le formule, applicando la matematica che purtroppo per fortuna non sbaglia, beh il risultato è questo. Perdiamo l'80% del nostro profitto a lungo termine quando vengono applicate commissioni e tasse al nostro investimento. Vi parlerò comunque di questo libro in dettaglio nella recensione che farò a breve. Per il resto questo video finisce qui e spero veramente che vi sia piaciuto e che soprattutto sia stato utile. E se è così lasciate un bel like al video per supportare a questo canale. Se siete nuovi iscrivetevi e attivate la campana di notifica per non perdervi i miei prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per aver guardato.